Sono Eliana Cascone, candidata al Consiglio Comunale per le prossime amministrative. Voglio parlarvi delle cose in cui credo e delle cose che credendoci mi batterò per realizzare. Credo nella nostra città, nella sua bellezza, nella sua storia, nella sua umanità. Credo nel cambiamento necessario, indispensabile per il nostro sistema politico, per il nostro sistema burocratico e amministrativo. Credo in una città, espressione massima di civiltà, con l'abbattimento delle barriere architettoniche sia nelle opere già esistenti e sia in quelle a venire. Credo nelle nostre forze economiche, assi trainanti della nostra economia ragusana, l'agricoltura, la piccola e media impresa e il turismo. Credo nei nostri amici animali e nella realizzazione di spazi verdi a loro disposizione. Credo nei giovani, ed è ai giovani che voglio rivolgervi in maniera particolare. A prescindere dal colore politico di ognuno, dobbiamo partecipare, interessarci, collaborare, confrontarci. Questo è il nostro futuro e nessuno può deciderlo se non noi. Sicuramente sin da piccoli non sognavamo questo per la nostra vita. Non potevamo di certo immaginare che a 30-35 anni non saremmo stati ancora adulti, non ancora inseriti in nessun contesto lavorativo stabile, precludendoci di fatto alcun contatto con istituti bancali, qualora pensassimo di acquistare la nostra prima casa. Ciò non ha fatto altro che farci slittare verso un futuro incerto e un probabile matrimonio e di conseguenza la costituzione di una nostra famiglia. Questo è oggi il nostro futuro, un punto interrogativo. Nel mio slogan scrivo, il presente che viviamo non è il futuro che volevamo. Sostieni la mia candidatura, mi batterò per te e per me, affinché il presente che viviamo diventi quanto più il futuro che volevamo.